È tempo di check-up per la copertura della Galleria Vittorio Emanuele II, con prelievi di campioni, analisi di laboratorio e, infine, il referto. Se dovesse capitare di passeggiare dopo le 22 sotto la grande volta vetrata del Salotto dei Milanesi, lo spettacolo, ai limiti del funambolico, sarebbe questo. Un'enorme autoscala che sale su, fino ai quasi 50 metri di altezza della cupola per prelevare campioni dalla struttura in ferro e vetro e valutarne eventuali ammaloramenti o comportamenti anomali. I tecnici, tutti di una ditta specializzata, saranno all'opera ogni notte fino al 23 febbraio, portando così a termine la ricognizione necessaria per l'avvio del restauro vero e proprio. Lo studio diagnostico, aggiudicato da Palazzo Marino per 242.000 euro, ha preso il via su uno dei bracci minori della galleria e sta proseguendo su quello principale verso piazza della Scala. Da lunedì toccherà invece alla grande cupola che sovrasta l'ottagono. Come campioni verranno prelevati dei provini di 20 cm di lunghezza per un centimetro di larghezza, che consentiranno alle analisi di laboratorio di valutare ed esaminare ad esempio i fenomeni corrosivi sulle parti metalliche e il conseguente degrado sulle parti strutturali, o ancora, di testare la resistenza ai carichi statici. Il risponso è atteso dall'amministrazione entro marzo, sulla base degli esiti e, ovviamente con l'approvazione della sovrintendenza, verrà redatto il progetto per gli interventi di consolidamento e restauro.